Musica Sembra messo male. Ricaviamo dei pezzi di ricambio. Non vi azzardate! Ma è Bugly! Tipo Bugly Bugly! Sono Bugly, il tuo assistente personale. Posso renderti la vita più semplice. Se vuoi divertirti, c'è una fiera enogastronomica a Notting Hill stasera. In zona ci sono numerose gelaterie artigianali che... Cristo Santissimo, è davvero così che parlo? Le previsioni di oggi, 34 assalti di Albion, 59 raid di deportazione, 857 terabyte di dati personali rubati e un gruppo di attivisti imbronciati e francamente patetici. Potreste asciugarvi le lacrime e ricominciare a darvi da fare? Bug's è tornato, cazzo! Oh! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 e la custodio. a tutti. 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 a tutti.